Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 in direzione Roma coda per veicolo fermo tra Firenze e Incise a Reggello. Verso Firenze rallentamenti tra Bivio, Varianti di Valico e Calenzano. In Fippili verso Firenze coda per lavori tra lo svincolo di Empoli e Ginestra Fiorentina e tra Monterupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. In direzione Livorno rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Monterupo Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Monterupo e Ginestra. Corre e strincimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Restiamo sulla Fippili per segnalarvi che per lavori resta chiuso oggi e domani tra le 9 alle 16 lo svincolo di Empoli, Centro e in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitane e comuni di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!